Lavori in corso per i tecnici del Consorzio Piave lungo gran parte dei corsi d'acqua della marca. Complice la siccità in questa parte dell'anno, iniziano le pulizie dei fondali e la manutenzione delle sponde, con una novità in più quest'anno. Noi abbiamo iniziato un percorso sicuramente innovativo che è quello di fare i draggi X, evidentemente non a tutti i corsi d'acqua, ma quelli più pensili, quelli più a rischio, per capire dove intervenire con quei pochi soldi che oggi abbiamo a disposizione per non sprecarli. Quindi intervenire facendo poi i draggi X e capire quindi se e quanto hanno e sono intervinto le nutrie con le loro tane. Una strumentazione nuova per capire quanti danni hanno fatto i roditori, ma anche i gamberi della Louisiana, diventati ormai di marca, che con le loro tane contribuiscono a perforare ulteriormente le sponde già colpite dalle nutrie. È molto simile come problema, si nota meno perché probabilmente la capacità di aumentare il numero, quindi di riproduzione del gambero rosso, è inferiore rispetto alle nutrie. Una situazione con la siccità e i fondali bassi, passata quasi inosservata, ma che può essere molto pericolosa. Sono danni in prevenzione di milioni di euro, ma pensi cosa potrebbe succedere a un argine che è alto 2-3 metri, rispetto al piano campagna, tutto forato, in un momento di piena ci sono danni non solo di argini, ma anche di abitazioni con possibili ripercussioni anche sugli uomini e sugli abitanti. La soluzione resta il contenimento delle nutrie, che per competenza ora sono tornate alle province e di conseguenza ai cacciatori. Inevitabile quindi, tra gamberi e nutrie, anche la facile battuta tutta culinaria. Presidente, ma è vero che con l'assessore Lorenzon e voi del Consorzio aprite un ristorante a base di gamberi e nutrie? Diciamo che da questo punto di vista la materia prima non manca.